Siamo alla seconda giornata del terzo Memorial Aldo Nazaro Trofeo RT Metalli, siamo con, dimmi il tuo nome, la tua età, da dove vieni? Mi chiamo Andrea Di Nolfi, vengo da Monteforte Erpino e faccio parte del country tennis Avellino. Allora, oggi tu hai disputato un match, mi dicevi che sfortunatamente non è andato benissimo. No, ho perso 7-6-6-4 con Giuseppe De Biase, classificato 3-3. Peccato perché sono andato in vantaggio nel primo 7-5-2 e da lì ho cambiato un po' con strategia di gioco, forse sono andato un po' in tensione, mi sono messo sulla difensiva e lui è entrato un po' più in campo. Senti, qual è la tua attuale classifica? 3-5 Partiamo anche un po' dal passato, qual è stato il tuo miglior torneo disputato, qualcosa che ricordi con particolare attenzione, anche una partita che ti ha formato in maniera decisiva? Sì, sì, sono stato al fuori italico, ho disputato il Master King nazionale, ho fatto un ottimo torneo, ottimi risultati, in quanto ho battuto un 3-3 di Roma, quando ancora ero 4-1, in quarta categoria. Ho battuto in 3-7 e sono molto contento perché credo di aver fatto il mio torneo. Senti, tu hai fatto un'analisi giusta della tua ultima partita, hai detto di aver fatto degli errori strategici nell'ultima fase, quindi raccontami ora anche che tipo di atleta sei, che tipo di atleta credi di essere, un atleta che ama giocare più da fondo campo, più a rete? Io, secondo me, mi reputo un contrattaccante da fondo, in quanto gioco molto dietro la linea di fondo campo e poi quando ho l'opportunità cerco di giocare qualche vincente oppure da fondo vado direttamente a rete e chiudo il punto. Senti, in base a questo, ovviamente, in base alla tua tipologia di gioco, mi dovresti anche raccontare chi è il tuo atleta di riferimento, chi è il tuo tennista preferito in qualche modo. Sì, sono un ammiratore di Roger Federer. Ah, che strano! Sì. Senti, perché hai scelto di partecipare a questo torneo, anche se, insomma, è facile capirlo, è una bella location, un'ottima struttura, una grande accoglienza? Sì, il country dispone di un'ottima struttura, due campi in greenset, al coperto. Credo che è la miglior struttura qui ad Avellino e dintorni che disponiamo. Siamo sostanzialmente d'accordo e poi ti chiedo anche un'altra cosa. Mi hai detto di aver partecipato e vinto ad un torneo importante a Roma. Il country e questo torneo, insomma, diciamo che non tolgono nulla a una provincia così piccola come quella di Avellino. Anche qui si possono fare delle cose importanti e questo torneo lo testimoni. Sì, sì, sì. È un torneo importante, un Open con il Montepremi. Dà l'opportunità anche a noi ragazzi di confrontarci con giocatori di seconda categoria e fare quindi esperienza. L'ultima domanda è sull'organizzazione. Trovi che sia all'altezza, che vi gratifichi? Penso che tu mi abbia già risposto dicendo che è un torneo ben organizzato anche con un Montepremi. Non è da tutti. Sì, sì, sì. Abbiamo come giudice arbitro Malena Nazzaro, l'organizzatrice del torneo e anche poi con l'aiuto dei maestri Guido Nazzaro, Enzo Embriani, Antonio Pipe, che aiutano un po' a organizzare vari allenamenti con le partite. Quindi sei soddisfatto? Per il prossimo anno ci ritornerai? Sì, 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 spero, sì. Adesso mi dovresti sintetizzare. Cosa è per te il tennis in una sola parola? Il tennis è uno sport mentale, è molto difficile. Per capirlo bisogna viverlo, giocarlo, altrimenti non puoi conoscerlo. Io lo paragono sempre al pugilato, in quanto giochi individualmente uno contro uno e devi essere attento a ogni punto, perché basta almeno un punto e il gioco si ribalta. Quindi ci vuole molta concentrazione e attenzione a ogni punto. Grazie. Grazie.